e uno e due e tre salve benvenuti in questo buongiorno a tutti intanto benvenuti in questo mio nuovo video blog allora è fine il campionato da qualche giorno lo sappiamo tutti sta giugno inizia l'europeo di mister conte intanto ieri è arrivato alla conferma che conte è stato assolto perché sinceramente non credevo a una virgola di quello che accusavano mister conte non ci credo non ci crederò mai anche se conte ha fatto l'ha fatto l'ha tradito la juve che se n'è andato ora non era il celsi sentenze stava fatta è stato mi sembra anche assolto mauri e altri giocatori erano coinvolti in questo calcio scommesse ora inizierà come ho detto prima l'europeo di calcio anche se l'italia credo che non sia tra i papabili a vincere l'europeo anzi credo sarebbe una cosa preziosa che arriveremmo massimo gli ottavi di finale degli europei penso che massimo gli ottavi non arrivere all'italia è una squadra molto superiori a noi come la stessa spagna che gioca sempre il profuso di itaga e la germania squadra molto superiori io dico all'italia ma sinceramente l'europeo non mi piace più di tanto forse lo seguirò non lo seguirò tanto seguirò forse qualche partita dell'italia vediamo se l'italia vedo che fa un bel calcio che mi appassiona l'europeo me lo guardo tutto me lo gusto tutto ma se fa le figure come ha fatto nel mondiale è meglio non vederla proprio l'italia e godersi giugno l'ultimo andando a mare godendosi l'estate che credo non ne vale la pena stare a morire del caldo per vedere una squadra fare brutta figura ci sono tanti rifosi che non ti fanno per l'italia soprattutto i napolegani napoletani napoletani perché si sa i dar juve non ti fanno per l'italia il motivo è che non ti fanno per l'italia è uno solo perché l'italia è mezza juventina è mezza juventina essendo che è mezza juventina nessuno ti fa per l'italia l'imbecillità delle persone fa questo non ti fare per l'italia perché la squadra è tutta juventina non capiscono che l'italia arrivando ad un certo punto ciao l'italia arrivando ad un certo punto come si dice nel nostro paese perciò il nostro paese si deve rifare italia vediamo comunque il 21 maggio ancora perdono ancora della juve per il prossimo anno vincere questo cazzo di coppa campioni che ci manca l'anno mi sembra mentale comunque ragazzi ma che ne pensate voi dell'europeo e quante possibilità all'italia di vincere l'europeo secondo voi chi potrebbe vincere l'europeo iscrivetevi sotto nei commenti grazie a chi lo farà un bacione a tutti iscrivetevi al mio canale sempre solo forza Uwebs ragazzi ciao